FUN NUMBERS Sai, ho sentito molto parlare di te... Ginkaka... Ginga... Aspetta... Si pronuncia Ginga, la K è muta! Quello che è? È ora di aggiungere in Beyblade alla lista dei franchise eliminati dai Pokémon! Certo, come no! Il legame tra me e il mio Pegasus è inarrivabile per qualunque franchise! Già, è letteralmente quello che ogni protagonista dice prima di incontrare il mio Pikachu! Sto per farti a pezzi! Oh no, Ginga! Non preoccuparti, Kenta, ci penso io! Let it rip! Così, Pegasus! Quello era il tuo turno, giusto? Non capisco se sia di nuovo il mio turno! Non sottovalutare il mio Pegasus! Oh no, Ginga! Non puoi farcela! Sta zitto, Kenta! Sei davvero il mio più grande hater! Perché dici sempre che non posso battere nessuno quando poi finisco per batterli tutti? Voglio solo proteggerti, Ginga! No, ora chiudi il becco e fatti da parte, Kenta! Pikachu, usa azione! Sta per farti a pezzi! GINGAAA! Che c'è, Kenta? Cristo santo, sto letteralmente avendola meglio questa volta! Pegasus, usa l'attacco Star Blast! Ma ci sta prendendo in giro o cosa? Sembra che le mosse di combattimento ravvicinato non funzionino contro quella cosa! Pikachu, prova a usare il fulmine! Sta per farti a pezzi! Ha... Ha funzionato? Come faccio a vincere contro quella cosa? Non è nessuna barra della vita! Oh, chissene! Sono Ash Ketchum! Sono sicuro che accadrà qualche assurdità e in qualche modo vincerò comunque! Oh no, Ginga, stai attento! Sta per capire che se dovesse riuscire a fermare la rotazione del tuo Beyblade tu perderai! Mi dici qual è il tuo problema, Kenta? Un attimo, puoi ripetere, non ho sentito! Ginga! Ho accidentalmente lasciato accanto a lui un secchio d'acqua! Potrebbe usarlo per fermare la rotazione del tuo Pegasus e vincere! Ti disprezzo davvero tanto, Kenta! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti! E voi chi ti fate? Pokémon o Beyblade? E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo!